Elisa Mezzasoma, opposta di una Zambelli Orvieto che ti aveva strappato dalla Serie A2 per riportartici. Sì, è stata una bellissima promozione, un anno molto impegnativo perché era un campionato, come abbiamo visto, molto tosso. Siamo stati bravissima Perugia e abbiamo vinto 3-0 e questi punti ci hanno permesso di festeggiare con una giornata di anticipo. Sono molto contenta di questa esperienza, di quest'anno a Orvieto e ringrazio un po' tutti la società, anche i tifosi e le bambine che sono sempre venute a seguirci. È stata una stagione difficile, c'è stato anche un infortunio per te, sei dovuta tornare in carreggiata con pazienza ma poi alla fine sei ritornata a fare quei punti che Orvieto aspettava da te, una bellissima stagione. E la soddisfazione come ombra di vincere in ombra com'è? Sì, è una soddisfazione molto grande rispetto all'altra promozione a Pesaro, questa è un po' più sentita. Sono stati, sì, il periodo dell'infortunio è passato due mesi all'incirca, non tanto profiti riguardo al risultato in campo, ci ho messo un po' per recuperare, però alla fine sono riuscita a tornare quella che ero nei mesi prima dell'infortunio. Grazie.